Partner con noi è Made in Romagna, quindi Sabrina Toscani, che non è una romagnola, fantastico. Con mio centro veneto, sono fondatrice di Made in Romagna, un progetto a supporto degli imprenditori romagnoli che intendano esportare i propri prodotti e servizi all'estero. Vogliamo coniugare, collegare, l'idea insomma è quella di collegare le identità, la cultura, la tradizione romagnola che ho scoperto è esserci in Romagna, insieme alla Piadina, e portarli all'estero, farli valere con le eccellenze che sono sui mercati esteri. Come possiamo essere un risorso? Offrendo del marketing e comunicazione cross-cultural, quindi interculturale, aiutare a capire come ci vedono gli stranieri, quindi sfruttare queste potenzialità che abbiamo vendendoci all'estero e soprattutto dare a disposizione i contatti personali che abbiamo all'estero. Come lo facciamo in termini pratici? Sotto forma di blog, un'aggregazione di contatti commerciali, di richieste che ci pervengono dall'estero, tutte le possibilità di missioning, coming, outgoing, eventi, fiere, eccetera. Poi tramite Twitter, attraverso l'aggregazione di notizie e aggiornamenti rilevanti per l'esportazione, tramite YouTube con la presentazione di referenti esteri, direttamente, e con cross-cultural videos. In termini di impresa 2.0 questo si diventa un'aggregazione di informazioni di terze parti a titolo gratuito sul nostro sito, con abbonamento per avere informazioni e contatti personali della rete e del consorzio all'estero e infine con i servizi di expert management che stiamo sviluppando per accompagnare le imprese che vogliono iniziare a esportare o le imprese che vogliono aumentare il fatturato in esportazione. Grazie. Grazie, Sabrina, sei stata bravissima. Ci sono delle domande? Un'espressione mia, veramente grande apprezzamento per questa iniziativa. Io sono stato invitato da Mariana Marebarco che salutiamo a distanza e dalla sala è venuta molta energia e grande professionalità sicuramente vostra, obiettivamente da dei trevori, lo dico, Giuseppe e tu e dello staff di CNA e credo che sia giusto anche a termine di tutto questo ringraziarvi perché è un'opportunità formidabile che un'associazione di categoria fa veramente, per cui obiettivamente lo devo dire. Grazie Andrea, grazie, i complimenti vanno soprattutto alla CNA e poi il direttore che è qua in prima fila e che sta ascoltando tutto lo dirà se è contento, speriamo bene. Allora io chiamo...